Ok, siamo arrivati in questo corso anche e finalmente alle animazioni Ora, le animazioni si svolgono, lo vedremo molto bene, in questa parte qua sotto dove vedete che c'è una sequenza di frame, si chiamano quindi da 1 a n, qui arriva fino a 250 e durante questi frame gli oggetti fanno delle cose, si muovono in sostanza come facciamo a fare in modo tale che un oggetto si muova? semplicemente prendiamo un oggetto che sarà il nostro cubo e lo fissiamo in un punto, per esempio questo allora, supponiamo di voler fare, qui mettiamo gli screencast case supponiamo di voler far fare a questo cubo un'animazione in cui si limita a girare lungo i lati di questo quadrato che vedete allora, faremo diciamo 40 frame nel primo metteremo il cubo in questa posizione nel secondo lo metteremo qua giù nel terzo qua giù e così via quindi cominciamo a muovere vedete che se io clicco col sinistro andiamo sul frame 1 1, lo vedete, 1 si trova anche qua e qui mettiamo la posizione del nostro cubo quindi facciamo i e facciamo i location quindi i location, vedete che qui sono comparsi dei rombi gialli, più o meno e vuol dire che qui abbiamo messo questa posizione ora, per animare dobbiamo andare nel secondo punto della nostra animazione e dirgli che vogliamo mettere una posizione qua a questo punto spostiamo il cubo quindi facciamo un GX e lo spostiamo più o meno qua e poi facciamo un I I di nuovo, cosa fa? aggiunge un'altra locazione vedete, che sono altri quattro quattro rombi gialli che vuol dire che noi abbiamo detto che il cubo si è spostato da lì a là a questo punto si prosegue con l'animazione e si mette qua quindi al punto, al ventesimo frame il cubo deve muoversi laggiù quindi facciamo GY lo spostiamo più o meno laggiù e facciamo I Location abbiamo questo punto questo punto abbiamo capito facciamo l'animazione 30 quindi facciamo GX lo spostiamo di nuovo qua e facciamo, vi ho detto, la I Location e poi dobbiamo riportare il cubo nella prima locazione e qui abbiamo un primo trucco che insegniamo che è quello che se vogliamo che il punto 40 sia uguale, identico al punto originario possiamo selezionare con B selezionare questo poi fare Shift-D no? dobbiamo fare Alt-A cioè, deselezionare tutto e poi selezioniamo soltanto i triangolini questi e poi facciamo Shift-D duplica e duplichiamo questi e lo mettiamo in posizione 40 ok? a questo punto noi abbiamo completato l'animazione da 0 a 40 e per renderlo evidente qui mettiamo che lo Start è 1 e la fine è 40 ok? a questo punto per animare basta semplicemente cliccare su Play e voi vedrete che il cubo insegue tutte queste posizioni questi frame principali e in realtà quello che è successo è che tutte le posizioni intermedie vengono diciamo calcolate quindi in ogni momento lui assume una posizione intermedia e quindi così abbiamo fatto abbiamo siamo riusciti a fare in modo tale che il cubo giri attorno a una traiettoria ora facciamo solo un altro piccolo esempio in cui oltre a muoverlo di posizione lo facciamo anche ruotare quindi si muove ruotando allora torniamo sempre in posizione 0 cioè 1 in realtà e qui marchiamo anche la rotazione quindi facciamo di nuovo i ma marchiamo location e rotation ok location e rotation perché? perché vogliamo che sia marcata anche il modo in cui è ruotato andiamo nel 10 e qui lo giriamo facciamo r r z e lo spostiamo diciamo un pochino verso destra e a questo punto facciamo i lock rot quindi abbiamo messo anche una rotazione fatta così questo cubo lo andiamo a vedere com'era il 20 vedete che si è conservata questa rotazione qua e gli facciamo una rotazione quindi r z lo ruotiamo un pochino di più facciamo i lock rot e poi andiamo al 30 che è questo e facciamo ancora r z e lo ruotiamo ancora di più e facciamo i la i serve per marcare anche la rotazione quindi se a questo punto si quindi in realtà siamo sul 29 aspettate correggiamo quindi ci mettiamo proprio al 30 r z lo ruotiamo un pochino di più i lock rot ok e quindi adesso abbiamo un cubo che non soltanto vedete che si muove di posizione ma ruota anche e quindi abbiamo aggiunto la rotazione anche del cubo oltre alla sua posizione un'altra cosa che si può fare è tra l'altro qui se vogliamo andare all'inizio torniamo qui quindi un'altra cosa che si può fare è cambiare anche la scale le dimensioni quindi qui possiamo averlo qua qui al 10 gli diciamo che lo facciamo un po' più grosso quindi s e lo espandiamo e poi però dobbiamo ricordarci di fare i e a questo punto dobbiamo salvare lock rot e scale e poi andiamo nel qua dove era la 20 e anche qui la scale la facciamo diventare ancora più grosso per esempio quindi facciamo scale così e facciamo i lock rot scale andiamo al 30 e qui lo facciamo magari cominciare a rimpicciolire quindi facciamo s lo facciamo diventare molto piccolo quindi facciamo i lock rot scale e poi infine il 40 lo teniamo nelle dimensioni originarie che però erano erano queste qua quindi ci siamo persi ma basta che dovrebbe esserci una possibilità per vedere la scala vedete che qui possiamo metterci 1 1 e 1 stiamo lavorando qua e quindi siamo tornati al punto originario la rotazione lo facciamo 0 quindi torna in rotazione 0 vedete che possiamo lavorare anche qui sulla destra e qui possiamo fare i lock rot scale e a questo punto abbiamo un cubo che man mano che evolve cioè man mano che si muove ingrandisce vedete che si ingrandisce e si rimpicciolisce quando arriva lì e poi torna normale quindi abbiamo animato fondamentalmente sia la posizione la location sia la rotation che sia la scale un'altra cosa che possiamo controllare di queste animazioni sono e lo facciamo meglio diciamo direttamente andando nel menu di animazione qua è che possiamo controllare il modo in cui l'interpolation mode t l'interpolation mode è il modo in cui il cubo cambia l'animazione allora il default è che lui parte in accelerata quindi non so se notate quando lui fa queste cose accelera e poi quando arriva in fondo l'animazione tende a a ogni punto dell'animazione tende a fermarsi un momentino per cambiare questo comportamento basta fare t anzi t mentre siamo qua t mentre siamo qui sul dop sheet quindi facendo t invece di di mettergli l'animazione normale mettiamo lineare lineare e poi facciamo il play solito qui se vedete si comporta in maniera un pochino più omogenea cioè quindi lineare vuol dire che si muove a velocità costante mentre invece la modalità di default è una modalità che viene chiamata credo bezier no non mi ricordo quale è quella di default comunque c'è una modalità iniziale che non è questa e che dà un effetto leggermente diverso se invece mettiamo questi effetti particolari otteniamo delle cose strane tipo bounce che vedete che fa una specie di rimbalzo ma a noi interessa poco quindi riassumendo e magari facciamo un altro esempietto introducendo un quindi possiamo ripartire di nuovo da zero quindi faccio un secondo esempio magari lo faccio con facciamo new general scar changes e prendiamo un altro oggetto che per esempio è una sfera quindi cancelliamo cubo shift a mettiamo una mesh che è una uv sphere questa gli mettiamo shade smooth così bellina e poi lo facciamo una sfera che per esempio fa un'animazione di caduta allora la caduta la facciamo prendendo la sfera allora qui innanzitutto mettiamolo qua siamo al frame 1 quindi la sfera inizialmente è in alto ad esempio gz la mettiamo qui e prendiamo la posizione della sfera in questa posizione quindi facciamo i e essendo una sfera va bene anche solo la location quindi vedete che abbiamo preso la sfera l'abbiamo registrata in posizione 1 poi andiamo in posizione 20 ad esempio e qui prendiamo la sfera e la abbassiamo quindi facciamo g z ho detto z quindi facciamo g z ok z la mettiamo che arriva fino al piano e qui facciamo i location e poi vogliamo simulare la sfera che rimbalza ad esempio in questo caso cosa facciamo prendiamo la sfera facciamo g la facciamo mettiamo ah no aspettate dobbiamo andare in 30 quindi mettiamo prima il frame poi prendiamo la sfera la spostiamo leggermente che va lì e qui facciamo i location e poi al 40 facciamo la sfera che si muove su quindi facciamo ancora un i et che è lì facciamo un i location e poi eventualmente la facciamo finire per terra quindi facciamo g z la mettiamo in basso e poi la spostiamo un po' g per terra così quindi a questo punto ricordiamoci che forse dovevo fare 50 ok mi dimentico sempre quindi g la mettiamo più o meno a terra e facciamo i location a questo punto abbiamo registrato vedete che praticamente abbiamo questa animazione in cui la sfera cade e se torniamo indietro nel tempo se facciamo il play vediamo che che la sfera fa questo giro però 50 quindi da 1 a 50 ok quindi abbiamo questa animazione vedete adesso qui leggermente spuria come animazione perché devo studiarmela un pochino bene ma comunque l'effetto è interessante quindi se noi vediamo anche in ivi oppure addirittura in questa modalità dove questa modalità che è interessante abbiamo l'animazione quindi primissima approccio con le animazioni è l'animazione delle posizioni delle rotazioni e delle cose ricordate che poi arriveremo anche a fare l'animazione del batterio e nel caso dell'animazione del batterio introdurremmo tra un po' anche il concetto di rigging rigging sono le ossa però sappiate che si può animare anche senza rigging e queste animazioni possono essere spostate anche su Sketchfab lo vediamo fra poco grazie a tutti